Motori Rombanti Motori Rombanti Motori Rombanti Motori Rombanti Motori Rombanti Non so spiegarvi perché e sono sicura che Nichi è felice e dovete l'esserlo anche voi, lui lo voleva. E poi, ha continuato mamma Michela, rivolgendosi ai suoi amici di motori, ogni volta che salite in macchina o in moto, portatelo con voi. Lui vi proteggerà. Chi lo ama da oggi ha un angelo in più.